eccoci qui buonasera ciao a tutti benvenuti a distanze di badminton settima stagione 51esima puntata allora senza perdere tempo voglio subito a condividere i due esercizi e due proposte di questa sera che non si discostano molto da quelle di venerdì scorso e anche tra due venerdì il tiro per rimanere in tema di badminton sarà lo stesso però poi su questi esercizi su questi schemi possiamo poi ovviamente divagare e andare ad attenzionare molto di più sui dettagli su come questi schemi possono essere giocati in modo sempre più performante sia a livello di tecnica di racchetta sia a livello anche di tecnica di movimento ma soprattutto anche legandoli al contesto tattico che è importante allora vi dicevo vi condivido gli esercizi e i video e poi andiamo a chiacchierare se avete domande potete sempre usare il logo domande risposte oppure alzare la mano che vi accendo vi apro il microfono allora questo è il primo esercizio arriva condivido come vedete si parla di schemi ok quindi qui c'è la grafica si parte col servizio iniziamo questa volta con un clear lungo linea di nuovo e rispondiamo con un clear lungo linea ok si esegue uno smash lungo linea una difesa lungo linea un net e un lifting crociato e poi si riparte di nuovo dai clear immaginiamo che il lift sia un po come servizio ok quindi io voglio alzare a fondo campo vediamo lo stesso tipo di esercizio visto dal vivo da i giocatori perfetto e quindi questo era il primo schema andiamo a vedere il secondo perfetto sempre della famiglia schemi si inizia sempre col servizio alto clear incrociato questa volta rispondo con un clear incrociato attacco lungo linea difendo incrociato gioco un net e si rialza e poi si riparte di nuovo dal clear incrociato clear incrociato andiamo a vedere dal vivo ok perfetto e questo era era il secondo schema secondo esercizio che vi ho proposto oggi stavo guardando se c'era qualche domanda no non c'è allora chiedo che da voi oggi se avete qualche domanda o qualche osservazione da fare su questi esercizi se qualcuno magari da dubbi nel discorso ha provato metterli in pratica in palestra se avete domande ecco vi ripeto cliccate su alzate la mano che riaccendo il microfono così potete parlare oppure usate il logo domande e risposte se non volete parlare scriveteli e io vi rispondo intanto avete visto tanto io parlo ma aspetto che ci sia qualche qualche domanda volentieri e avete visto gli schemi come detto anche l'altra volta si discostano poco da quello che abbiamo visto due venerdì fa nel senso che poi gli schemi sono una concatenazione dei colpi che quello che assolutamente succede in partita ok quindi si parte con un servizio e ci sarà un colpo d'avversario un rimando dell'avversario ancora una risposta dell'avversario e via dicendo quindi come ho detto l'altra volta possiamo andare a crearci parecchi schemi possiamo crearci dei schemi sui primi colpi andando a giocare solamente sui primi colpi in disciplina di singolare maschile piuttosto che singolare femminile allora se più un singolare femminile può essere più uno schema come questo avete visto dove ancora spesso le donne battono alto ok e quindi il volano arriva tutto a fondo campo possiamo fare uno schema invece pensando più magari un singolo maschile o un singolo femminile di più alto livello dove invece si può servire corto di rovescio quindi lo schema inizia con un servizio corto e l'avversario potrà giocare un net o un lift a seconda di come lo schema è disegnato da da voi da voi allenatori anche molto bello quando i giocatori magari ti chiedono loro perché non facciamo così lo schema e quindi progettano loro l'esercizio quindi immaginiamo e vi metto il campetto così lo lo vediamo arriva ecco immaginiamo che il giocatore ci chieda di sperimentare di allenarsi su questo su questo schema ok quindi immaginiamo servizio corto ok di rovescio poi può essere net lungo linea ok poi può essere che ne so lift incrociato ok smash lungo linea ok difesa corta incrociata e si riparti di nuovo dal net immaginiamo che la difesa corta incrociata e cade un po dove è caduto il servizio e quindi si riparte da capo con il net lift incrociato lo smash ok e la difesa incrociata ok vedi che in questo caso è solamente il giocatore che sarà qui che attaccherà allora basterà servire poi dall'altro lato del campo vado a pulire il campo così ve lo faccio vedere ok basta servire dall'altro lato del campo per disegnare lo stesso schema che vi ho fatto vedere ma con lo smash sull'altro lato quindi immaginiamo servizio corto come ho detto net lift incrociato ok smash lungo linea difesa corta incrociata e quindi il giocatore che su questo lato del campo va attaccare su questo lato qui ok si può poi ovviamente definire con i giocatori ok per tre minuti ok attacchi tu poi cambio tu che attaccavi servi e per tre minuti attaccavo io quello dipende da voi piuttosto che come ho detto anche l'altra volta a renderle anche partita ok quindi dire giocatori che questo è la partita da da fare oggi ok la routine da eseguire allora allora i giocatori ovviamente andranno a giocare in modo più performante a partire dal servizio quindi un buon servizio che che passi vicino al nastro un buon servizio anche variato a volte che cade qui che cada qui a volte che cada qui in base anche alla posizione di dove si posizionerà il ricevente ok piuttosto che un servizio corto ma leggermente più spinto anzi questa è un'ottima idea perché perché un servizio corto che cade e cade qui ok quindi diciamo vicino alla riga è facile preda se mi vedete in monitor dell'avversario che può giocare un netto o anche uno spin se molto bravo ok un servizio invece corto ma un po più profondo quindi che cade qui in questa zona del campo perfetto è un servizio che dà più fastidio a chi riceve perché ti entra più nel corpo ti entra più addosso quindi è più difficile poi se mi vedete in monitor gestire la racchetta e questo volano che arriva verso di noi quindi sarà più difficile fare un net molto più difficile direi quasi impossibile fare uno spin perché avrebbe giocato troppo da lontano il campo quindi lo spin non passerebbe la rete quindi ecco come vi dicevo se questi schemi li rendiamo anche partita quindi quando i giocatori li hanno digeriti li stanno fare abbastanza bene gli chiediamo proprio di fare una partita rispettando questa questa routine e se la routine non è rispettata ok immaginiamo invece che il servizio corto inizia con un servizio lungo ecco perde subito il punto perché la routine non va rispettata quindi come abbiamo detto un servizio corto variato un po più a destra un po più il centro un po più laterale un po più profondo un po più corto e qui in base a come riceverà il ricevente servizio un net che sia un po più verso il centro che sia un po più verso il centro del metacampo che sia un po più laterale un uno spin ok piuttosto che un net e in base a come arriverà il il giocatore che ha servito il lift potrà essere molto alto ok potrà essere più un lift d'attacco allora costringerà il giocatore che deve attaccare muoversi più velocemente dietro ok è uguale lo smash ok quindi vedete giocare a variare i colpi nella sua altezza ok anche nella sua nella sua profondità quindi anche lo stesso smash può essere uno smash molto molto lungo che comunque difficile a difendere immaginate quando lo smash arriva molto alto è molto difficile incrociarlo ok quindi anche questo è un'opportunità per poi vincere questa partita condizionata chiusa e bloccata da questa routine piuttosto che uno smash e uno smash più stick smash quindi più corto piuttosto che uno smash tirato più al corpo dell'avversario o tirato più al centro la stessa cosa parla per la difesa incrociata ok vado un attimo a pulire il campo quindi in base a come il giocatore in difesa riceve lo smash come è posizionato ma in base anche a come l'avversario dopo lo smash andrà a seguire lo smash e a recuperare la difesa incrociata eseguire difese incrociate che siano più corte ok quindi diciamo sotto la rete o difese incrociate più lunghe ok sono sempre corte ma più lunghe più spinte a metà campo in modo da disturbare poi il net o spin avversario in questo modo si variano si variano i colpi ok quindi avete visto già dal servizio ok come si può dare fastidio al giocatore e spesso non si vede soprattutto questo nei principianti si vedono dei servizi sempre standardizzati sempre uguali sempre nello stesso punto quindi capite che se poi dall'altra parte c'è un giocatore un pochettino più voluto un pochettino più sgamato o che magari è un coach che gli consiglia bene può consigliare al suo giocatore guarda il tuo versario ti fa sempre lo stesso servizio aspettatelo parti prima con la testa ok e cerca magari di fare questa questa risposta intanto credo di averlo già detto in qualche distante di badminton ma ripetiamolo ricordatevi che la miglior risposta a un servizio corto ok è un colpo corto fintato quindi rimetto il campo così lo vediamo ecco qua puliamo un attimo quindi dicevo che quando si riceve un servizio corto ok se il giocatore che riceve gioca subito un lift è chiaro che si mette poi subito in difesa perché comunque chi attacca chi chi serve può attaccare ok può attaccare il incrociato può attaccare il centro il la migliore soluzione al servizio corto è una risposta corta quindi servizio corto rigioco corto che sia il centro che sia un po più laterale che sia un po più laterale magari inserendo una finta quindi se mi guardate il monito e quindi cercare di andare intanto colpire il servizio alto il più alto possibile ok come dicono gli inglesi come scritto nel manuale della bwf hit the shuttle early colpisci il volano presto colpisci il volano alto quindi il servizio corto non lo farà cadere perché se lo fai cadere dai tempo all'avversario ok e tu se fai scendere il volano la rete diventerà un muro per te e dovrai per forza fare un colpo verso l'alto anche magari vicino alla rete ma comunque che si deve alzare quindi colpisci il servizio il più alto possibile magari esegui delle finte ecco immaginate arrivo magari con la racchetta così e poi faccio un colpo in incrociato arrivo con la racchetta così di rovescio poi tac incrocio ok quindi metto qua se mi vedete sono in questa posizione che sto ricevendo il servizio e vado a gradire il servizio magari con il mio rovescio faccio finito di fare un net e poi tac l'ultimo secondo incrocio la stessa cosa posso farlo col diritto se io ricevo nel lato sinistro del campo e sono così vado a aggredire il servizio con il diritto e poi incrocio ripeto questa è la migliore soluzione perché gioco corto e gioco fintato quindi è molto facile che io possa fare appunto subito o comunque che il mio avversario venga spezzato venga preso in contropiede e rialzi il volano a quel punto io posso riattaccare ovviamente posso anche rispondere lungo ma l'importante è che la risposta lunga non sia passiva spesso si vede questo in campo mi preparo a ricevere il servizio il giocatore appunto che riceve il servizio fa questo lascia il volano fa questo bel movimento lungo e alza è una risposta telefonata si vede lontano un miglio quello che stai facendo ma soprattutto alzi il volano quindi poi dai l'opportunità a chi è servito di attaccarti ok quindi anche qui se voglio fare una risposta alta intanto cerchiamo di prenderla il prima possibile ok di non fare questo movimento che dà qualche centesimo di millesimo di tempo in più all'avversario quindi aggredisco il volano come si fa su un net e poi pam movimento corto vado a alzare il volano ma anche qui si può fare una specie di finta ok quindi vado faccio finire di fare corte poi pam e poi alzo qui andiamo nel capitolo finte che non sono colpi che troviamo nei manuali vola con noi piuttosto che i manuali BWF le finte non sono colpi catalogati ok però sono colpi variazioni sui dei colpi che ovviamente ad alto livello sono molto efficaci ma a qualsiasi tipo di livello perché destabilizzano l'avversario perché ingannano l'avversario quindi innanzitutto la finta deve essere deve mostrare un qualcosa che non è ok e poi trasformarsi in un altro colpo quindi come ho fatto vedere prima mostro un colpo corto poi tac vado a giocare lungo piuttosto che mostro un colpo corto lungo linea e poi tac lo incrocio ok tutto questo in un arco di tempo molto molto breve con movimenti corti e rapidi ok quindi ecco vi ho fatto vedere un po prima il campetto vedete come gli schemi possiamo modificarli abbiamo detto e renderli più per gioco maschile potrebbe essere uno schema che ho mostrato ma anche per gioco femminile assolutamente partire con un servizio alto piuttosto che con un servizio corto piuttosto che con un servizio flick avete visto gli schemi che vi ho fatto vedere oggi dopo serviziato c'era il clear ma voi potete disegnare uno schema in questo modo mettiamo il campetto ok facciamo finta di giocare lo schema che avete visto in video quindi era così servizio alto e poi ad esempio da creare lungo linea noi possiamo iniziare uno schema così servizio alto ad esempio drop lungo linea ok lift incrociato ok clear lungo linea e si riparte quindi possiamo ovviamente come vi ho detto progettare tutti gli schemi che vogliamo le combinazioni non sono infinite ma sono veramente 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 tante anche perché possiamo fermarci a schemi di un paio di colpi come vi ho fatto vedere a schemi più complessi ok con molti più colpi e ho schemi veramente con tre quattro colpi come dicevo prima giocare sui primi colpi servizio risposta terzo quarto colpo sia nel singolo e soprattutto nel doppio dove i primi quattro colpi sono fondamentali quindi immaginiamo uno schema potrebbe essere questo no immaginiamo che siamo nel doppio servizio corto ok risposta corta ok risposta corta nuovamente ok e risposta risposta corta nuovamente cioè si chiede ai giocatori di tenere il volano vicino alla rete a partire dal servizio dal secondo dal terzo dal quarto colpo e vediamo se si riesce a fare punto allora qui si gioca molto sulla precisione del colpo su tenere il volano veramente vicino alla rete soprattutto basso vicino alla rete ricordiamoci sempre anche quando si parla di colpi corti come vi ho detto prima nel servizio ecco non immaginiamo che il campo per i colpi corti sia qui cioè sia qui sotto la rete ok no il campo per i colpi corti è almeno fino qua ok quindi quando andiamo a giocare dei colpi certo cerchiamo di tenerli bassi cioè quindi radenti la rete in base poi sempre dove sarà l'avversario perché comunque se li teniamo molto alti saranno prendi di kill di drive di block ma variamo la profondità ok quindi in base a poi come il mio avversario si muoverà e in base anche alle sue caratteristiche e tecniche se sarà l'avversario più o meno bravo a giocare a rete disturbiamo il suo giocare a rete il suo avanzare a rete con a volte colpi corti ma soprattutto colpi un po più profondi ok soprattutto in questa zona del campo qua ok perché in questa zona del campo qui è sempre intanto un po fastidioso colpire il volano perché è la zona un po' di mezzo tra diritto e rovescio ma è poi quella zona che se l'avversario in questo triangolo alzerà che alzi qui o alzi qui troverà me pronto ad anticipare o su questo lato o su questo lato perché il volano mi passerà in questo cono in questo triangolo che ho che ho disegnato ok questo abbiamo già detto anche distante di bambito più volte e quindi attenzione perché quando andiamo a giocare a rete ma anche davanti allo scambio vicino alle linee laterali ok se poi mi alzano qui io devo andare devo andare fino qua devo fare la diagonale la stessa cosa sull'altro lato mentre invece spesso e volentieri quando andiamo a giocare al centro del campo quindi vicino alla famosa che sia molto corto che sia molto corto che sia anche un po più spinto dentro il campo ecco la risposta all'avversario se lunga ovviamente dovrà passare in questo cono il volano deve passare per forza qui dentro e allora per me sarà più facile anticiparlo soprattutto con quel movimento che è definito salto fuori non so se c'è la faccia di manzarda ok quindi con quel salto fuori ok con quel salto fuori dove io posso dare intercettare questi volani tesi che mi passano vicino ok ovviamente se invece mi alzano alto ho tutto il tempo di andare dietro e fare il mio salto fuori invece ok però poi di giocare in quel cono per riuscire ad anticipare la risposta avversaria e questo era un po' quello che volevo dire oggi quindi ecco abbiamo visto quei due schemi la prossima settimana ne vediamo altri due poi scusate fra due settimane ne vediamo altri due poi ci saranno altri tipi di esercizi che vi mostrerò però ricordatevi e mi raggancia quello che ho detto vennero discorso di variare gli schemi ma soprattutto di rendere performanti e andando a giocare bene sull'altezza dei colpi sulla profondità dei colpi sulla variazione dei colpi quindi lo stesso drop posso farlo posso giocarlo prendo il volano che dovrebbe essere qua lo stesso drop posso giocarlo ok pulito lo posso tagliare ok lo posso tagliare quindi slice slice reverse ok lo posso giocare più lungo lo posso giocare più profondo lo stesso clear può essere un clear molto alto può essere un clear ritardato è molto più teso lo stesso servizio ok e poi come detto la scorsa settimana scusate se mi ripeto perché è importante gli split step siccome so dove va il volano ok preparare i piedi già nell'angolo dove il volano arriverà se il volano arriva a fondo campo mi prepara con i piedi così se il volano arriva a rete mi prepara con i piedi rivolti verso la rete se so che arriva lo smash faccio un bello split difensivo ok posizionarsi sul lato destro o sul lato sinistro del campo perché so comunque dove il volano viaggia perché è una è una rotta inchiusa ecco quindi capite che su tutti questi particolari ci si può lavorare tanto 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 tempo è quasi finito ripeto comunque per riuscire già gestire questi scambi c'è una tecnica di base decente ok perché se non riesco a giocare un clear piuttosto che un drop o una difesa prima mi devo allenare a gestire i colpi e poi metterli in pratica in questa routine e l'altra volta vi ho detto ecco possiamo iniziare anche a giocare degli schemi solamente su metà campo ok e poi allargare a tutto campo in base al alla bravura del giocatore all'esperienza del giocatore alla potenza e anche l'altezza del giocatore fate crescere l'esercizio in base al suo livello quindi andiamo a fare un riassunto esercizio che sia prevedibile come questo schema e poi diventi imprevedibile come può ad esempio diventare imprevedibile questo esercizio in questo modo ricondivido il campetto e immaginiamo nello schema di prima ok che vi ho fatto vedere all'inizio della lezione e quindi servizio alto ok ad esempio clear lungolinea ok clear lungolinea ok e smash lungolinea mettiamo quello schema così ecco possiamo dire se ricevi il volano qua ok giochi smash se ricevi il volano qui puoi giocare drop quindi vedete già crea un'imprevedibilità che quello poi ti bisogna insegnare ai nostri ragazzi perché se il volano è a fondo campo ok gioca un clear gioca un drop se il volano è più dentro al campo è buona idea giocare un drop e uno smash ma non vado giocare lo smash nella riga di fondo campo altrimenti poi difficile andare a prendere la difesa dell'avversario quindi ecco prevedibile va bene lo rendo imprevedibile lo rendo lento ok quindi si chiede all'inizio colpi facili clear alti smash non al cento per cento net non troppo vicino alla rete e poi lo rendo più veloce clear più veloce smash più veloce net più corte ok lift più tese e lo rendo e dicevo dicevo prevedibile imprevedibile ok lento veloce ok semplice ok e complesso semplice con i colpi di base quindi se c'è un drop in questo schema faccio un drop normale non tagliato più complesso con un drop tagliato semplice se c'è un net faccio un net invece del net se voglio renderlo complesso gioco uno spin ok quindi vedete le sfaccettature che ci possono essere in esercizi veramente veramente tantissimo e sono le 21 e 28 e ho finito stavo guardando se ci sono qualche domande sì allora Costantino dice ho sperimentato l'esercizio con un gruppo under 15 bene Costantino poi allora mi fai sapere com'è andata sì Pietro dice gioca al centro per non dare aggolizzato giocare al centro non dà angolo agli avversari poi ovviamente quando c'è l'occasione si cerca di angolare perché poi bisogna ovviamente far muovere l'avversario avanti indietro destra sinistra sulle diagonali e questo è lo scopo anche del 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 gioco però se vedete anche ad alti livelli si gioca spesso al centro Sergio del Valdosta mi dice in quale momento dell'elemento inserisci gli schemi si possono usare per riscaldamento sì assolutamente si possono usare per riscaldamento dipende anzi io uso spesso per riscaldamento è il primo schema con meno colpi perché quelli che avevo mostrato hanno già una batteria di colpi ma il primo schema classico che abbiamo visto credo una delle prime lezioni di distanti di bambito è classico drop net ok quindi su metà campo servizio drop net ok poi l'altro gioco net skip parte drop net 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 al lift scusate drop net net lift drop net net lift ok e via dicendo quindi già quello è uno schema ok a pochi colpi perché andro a più net lift e quelli che abbiamo mostrato poc'anzi hanno comunque il clear hanno comunque lo smash hanno la difesa corta hanno net hanno lift hanno già cinque colpi ok però assolutamente sì Sergio si possono introdurre già nel riscaldamento e l'importante che vi ripeto gli schemi sono utili se sono fatti bene sono fatti solamente perché l'intento di tenere il volano in gioco non serve a niente ok quindi va bene all'inizio il primo obiettivo quello di tenere il volano in gioco ma poi tenere il volano in gioco andando a sviluppare tutte quelle tecniche che sono fondamentali del bambito e le tecniche sono due tecniche di racchetta e tecniche di movimento quindi tutte quelle variazioni che con i passi non solo con gli split ma anche se vado a fondo campo a volte colpisco con un salta forbice a volte colpisco con un salta fuori ad esempio ok a volte vado a rete facendo un passo chassé e un affondo a volte vado a rete facendo un passo incrociato e un affondo ok perché più diamo variazioni più loro diventano diventano bravi ok io avrei finito come sempre nove e mezza cerchiamo di non fare di più perché non tediarvi troppo al molito se avete domande su quello che abbiamo fatto o su qualcosa che magari non vi è chiaro assolutamente ecco io vi ricordo questo lo scopo di istante di bambito è di darvi tante risultazioni siamo già la settima stagione quindi ce n'è parecchio quindi a volte magari andate a rivederlo su youtube se c'è qualcosa che vi interessa e ripropolete nei vostri club ok perché se nel club giochiamo solo partite non andremo mai da nessuna parte come nazionale ma neanche come livello tecnico generale o di base del nostro bambino italiano è importante allenarsi poi la partita è importante a fine a fine sessione di allenamento o c'è chi la fa una volta a settimana dipende dall'allenatore però bisogna allenarsi allenarsi in modo da rifinire tutti questi questi dettagli che è al bambito sia tecnico che tattico ecco si parla sempre di tattica e la gente quando parla di tattica va un po' nel pallone perché sembra che la tattica non si faccia mai ma la tattica è molto semplice la tattica comunque sono le variazioni dei colpi ok come anche andare a giocare volano dove l'avversario non si sta dirigendo ok come anche giocare il volano in base a dove sono in campo ok anche quello è parte della tattica quindi come ho detto prima se sono a fondo campo e l'esercizio mi chiede lo smash ecco l'allenatore può dire guarda che tatticamente adesso l'esercizio dobbiamo renderlo più utile alla partita da fondo campo si può anche giocare il drop oppure ripeto un clear quindi immaginate e chiudo veramente lo schema di prima ok siamo siamo qui servizio alto un bel clear a fondo campo un altro bel clear a fondo campo questo giocatore dovrebbe farlo smash ma capisce che tatticamente è in una posizione poco congeniale può giocare un drop piuttosto che di nuovo un clear magari un clear un po' più teso in modo che l'altro rimane sul volano e giochi un clear un po' più corto allora sì è l'occasione giusta per attaccare ok però se nelle esercitazioni noi non gli facciamo capire queste variazioni sarà poi difficile per il giocatore capire in partita dove ha già la sua pressione la pressione del pubblico della ragga della fidanzata della moglie dell'amico dell'allenatore vi dicendo quindi è molto importante rendere consapevoli durante l'esercitazione cosa sta facendo il giocatore bene io vi ringrazio siete 75 collegati sempre un grandissimo numero sono molto contento e vi ringrazio ci vediamo fra due settimane sempre con gli istanti di badminton sempre con i soliti i nostri esercizi ciao a tutti e buona serata e buona serata